Va tutto bene finché qualcosa non si rompe. Conoscono molto bene in realtà questa frase e tutto quello che rappresenta i banchieri centrali ed è forse questo uno dei motivi per cui negli ultimi giorni sono arrivate delle dichiarazioni più morbide da parte di alcuni esponenti della Federal Reserve che hanno in effetti alimentato questo rimbalzo in questo momento dei mercati azionari. Oggi parliamo di questo e come al solito per chi fosse nuovo l'invito è iscriversi al canale con un clic sulla campanellina oltre che a leggere i miei contenuti quotidiani sulle 24 ore trovate il link in descrizione e mi raccomando un like. Non fa male andiamo con l'obiettivo di almeno 1000 like al video. Vediamo l'S&P 500 che sta andando appunto ha disegnato tre candele verdi anche se quella di ieri ha pronunciato una ombra non eccellente, non proprio bella perché indica molto semplicemente che la chiusura è avvenuta più in basso rispetto ai massimi di giornata un po' più lontani. Quindi c'è stato un po' di il prezzo è andato lì ed è stato un po' respinto. Tra l'altro se vedete siamo proprio in zona neckline, questa linea immaginaria di un collo di questa persona immaginaria la cui spalla sinistra, spalla destra, testa e spalla destra rappresenta il disegno, figura ribassista e quando viene violata la linea del collo si tende a scendere. Però adesso c'è un rimbalzo e quindi se si va teoricamente dal punto di vista dell'analisi tecnica sopra in modo convinto la neckline questa figura, questo pattern potrebbe essere violato o comunque potrebbe rientrare e quindi perdere la sua efficacia perché in efficacia completa avrebbe dovuto disegnare un ribasso pari alla distanza tra la testa e la linea del collo che è intorno ai 4.000 punti di S&P 500. A parte questa parentesi tecnica i banchieri centrali dicevo hanno ammorbidito un po' i toni dicendo che con i tassi probabilmente potrebbe essere finita infatti le aspettative su un rialzo dei tassi a novembre nel prossimo la prossima riunione della Federal Reserve sono molto basse sono intorno al 25% questo si aspetta il mercato adesso quindi siamo passati da uno scenario higher for longer cioè nel senso che ci si aspettava forse ancora un altro rialzo o altri due a uno scenario per ora high for longer cioè tassi hanno raggiunto il massimo e resteranno però alti prima di discendere al momento i futures scontano i primi tagli intorno alla giugno luglio del 2024 quindi ancora otto mesi abbondanti di questi tassi molto alti chiaramente la notizia è importante perché ha avuto effetti sul mercato obbligazionale vedete che il biennale è sceso sotto la soglia psicologica del 5% e il decennale che era arrivato vedete a sfiorare questo 5% in realtà 4,9% anche se sta ritracciando e vedremo un po' se appunto questo 4,9% possa rappresentare quel picco e quindi relativamente quel nuovo bottom lato prezzi del mercato obbligazionario rispetto a quello di ottobre 2022 è chiaro che appunto questo movimento va valutato perché è stato accompagnato da delle parole importanti poi ci saranno i dati giovedì ad esempio il molto importante il market mover sull'inflazione negli stati uniti però il fatto che questi banchieri siano intervenuti quasi a spegnere un incendio vuol dire che può voler dire che essi temano in un certo qual modo che questi tassi in effetti vadano poi a rompere qualcosa di cui la frase d'apertura di questo video e che magari questo atteggiamento molto duro che hanno avuto gli stessi banchieri a partire da Powell da fine agosto in poi disegnando questo wire for longer sia stato anche una retorica voluta a inasprire le condizioni finanziarie a far fare il lavoro sporco al mercato che in effetti l'ha fatto perché ha portato i tassi molto molto più in alto e i tassi dei mutui tarati sul trentennale americano che si al 4,8 per cento sono hanno superato l'8 per cento quindi come non accadeva da davvero tanti anni quindi lavoro sporco il mercato l'ha fatto senza che la fed abbia ulteriormente alzato i tassi e quindi il mercato invece li ha alzati andando a impattare poi sull'economia su chi in queste settimane effettivamente negli stati uniti ovviamente sempre meno sta stipulando un nuovo mutuo appunto al 8 per cento e passa di rendimento anche lo stesso discorso vale per le imprese chiamate a rinnovare i propri debiti quindi fatto fare un po di lavoro sporco al mercato poi paura che questa cosa possa degenerare e infatti si comincia a parlare di tarp 2.0 negli stati uniti cioè di un nuovo piano di sostegno per quanto riguarda chiaramente l'economia le banche che potrebbero essere in difficoltà visto che hanno in pancia dei titoli molto soprattutto titoli di stato che sono appunto in forte minusvalenza qualora dovessero essere venduti per esigenze di cassa in questo in questo momento quindi il dibattito che volge verso il tarp 2.0 come ipotesi come chiaramente dibattito documenta comunque quello che già sappiamo cioè che le banche che hanno questi titoli che si sono svalutati e che stanno accusando il terzo ribasso di fila come hanno nella storia non era mai successo che le obbligazioni americane perdessero in termini di prezzo per tre anni di fila quello che sta accadendo adesso ecco può darsi che dopo questo diciamo si tema un qualcosa di sistemico e quindi se si teme qualcosa di sistemico è meglio spegnere un po questo incendio e andando a dare qualche frase un po più morbida che però non magari non sarà sufficiente lo vedremo a far scendere rapidamente i tassi anche perché poi se i tassi dovessero scendere rapidamente il mercato farebbe il lavoro sporco al contrario cioè andrebbe addirittura immaginare uno scenario molto più rossio andando a sostanzialmente rimare contro le banche centrali e andando a fare a migliorare molto le financial conditions creando i presupposti per un rimbalzo eventualmente dell'inflazione che resta il nemico numero uno da combattere quindi però queste frasi che hanno spento un po il fuoco che hanno calmato questo incendio dei bond chiaramente suonano un po come come che appunto la fed tema questo 5 per cento sul decennale o sul trentennale e come potenziale tasso di rottura sistemica quindi vedremo vedremo un po però è singolare che siano arrivate queste frasi a spegnere appunto l'incendio qualche altro grafico prima di chiudere questo breve video di raccordo la volatilità sulle obbligazioni indice mov va visto va analizzato perché ha avuto questo spike importante nelle ultime settimane vedremo se si fermerà perché questo è accompagnato sarebbe accompagnato da un clima distensivo la stagionalità siamo entrati in un ambiente in cui la stagionalità torna positiva in cui il vix soffre comincia a scendere vedete è arrivato al 21 adesso comincia a scendere in perfetta stagionalità vedremo appunto se questa stagionalità sarà rispettata anche in quest'anno che appunto un anno molto molto particolare da questo punto di vista volevo farvi vedere poi questo ratio perché in questo momento per capire appunto la qualità di un eventuale movimento di inversione e di rimbalzo di rally di natale eccetera eccetera è interessante monitorare il ratio tra Russell 2000 e l'indice S&P 500 equipesato che sappiamo essere più rappresentativo in questo caso perché non dopato dalle performance dei magnifici 7 che derogano all'andamento dell'indice classico S&P 500 vedete il ratio Russell 2000 contro S&P 500 è molto più basso ha raggiunto se non sbaglio livelli che non si vedevano da guardate un po dal 1900 dal 2001 dal 2001 non eravamo su questi livelli ma dagli anni 2000 da oltre vent'anni il Russell non sotto performava così tanto rispetto all'S&P 500 c'è sicuramente la difficoltà in questo ratio dell'economia americana che è rappresentata dal Russell 2000 le piccole e medie imprese rispetto ai magnetici 7 che rendono l'S&P 500 un indice a parte ed ecco perché è meglio guardare questo ratio nell'ottica di confrontandolo con l'RSP che sarebbe l'ETF che replica l'S&P 500 equipesato anche qui siamo sui minimi però se andiamo a valutare il movimento siamo più lontani da questo minimo di maggio e per capire appunto se questo movimento avrà le braccia larghe per espandersi sostanzialmente vedremo un po' se questo ratio comincerà a salire cioè se le piccole e medie imprese inizieranno a sovraperformare le aziende quotate all'S&P 500 anche se calcolate nella formula equipesata perché è interessante appunto ogni movimento importante è accompagnato da una sovraperformance della periferia rispetto al centro e quindi questo ci potrebbe documentare questo ratio da monitorare in queste settimane in cui i più ottimisti parlano di inversione di trend di stagionalità positiva di rally di natale staremo a vedere se poi appunto non ci saranno altre condizioni postative rispetto a questi a questi temi interessante poi volevo farvi vedere il put call ratio con il andando a in integrarlo con l'S&P 500 vediamo un po' linea gialla S&P 500 linea blu put call ratio vedete che il put call ratio è arrivato a 1 e 3 è il rapporto tra le opzioni put e le opzioni call comprate quindi se le opzioni put vengono comprate più delle call vuol dire che il mercato si sta difendendo perché chi compra le opzioni put si assicura assicura il sottostante da un futuro ribasso chi compra le call invece è più aggressivo e va a cercare attraverso la leva finanziaria delle opzioni un rialzo esponendo meno capitale a mercato quindi quando il rapporto put call ratio il rapporto tra queste put e call acquistate sale vuol dire che ci si difende che il mercato ha un po' di paura quando scende il mercato si distende e vedete un po' che molto come molto spesso accade c'era stato un estremo di questo put call ratio 1,3 e il mercato poi ha girato andando a colpire tra virgolette a punire chi aveva troppa paura quindi ancora una volta si è verificata almeno in queste sedute poi vedremo se proseguirà una legge che è quella che forse rimane più scolpita sui mercati cioè comprare la paura e vendere l'euforia sostanzialmente quindi eravamo arrivati a un picco potenziale di rapporto put call e il mercato è ripartito in effetti poi il rapporto put and call ratio in effetti è sceso molto molto rapidamente quindi è stata comprata della paura in queste ultime sedute quindi cercheremo di capire se è un movimento tattico appunto di andare a colpire a fare cassa su chi ha provato la emozione della paura e quindi magari ha compiuto delle operazioni con poca lucidità a mercato ed è stato punito oppure se questo appunto è un movimento un po' più sano dopo che il mercato ha fatto una altrettanto sana correzione tra l'altro siamo in stagione di trimestrali e quindi le trimestrali non tanto quelle che verranno presentate adesso ma le parole sulle forward garden sulle prossime trimestrali potrebbero essere dei potenti market mover perché effettivamente l'economia americana è resiliente ma i tassi reali ne parliamo spesso sono molto alti non continuano a deteriorarla e quindi effettivamente se emergerà prima o poi chissà se a questo giro o al prossimo qualche indicazione che effettivamente i conti delle aziende, la microeconomia si vanno anch'essi deteriorando questo potrebbe spingere gli analisti a rivedere rapidamente le stime a ribasso dei utili e quindi i mercati a prendere le loro conseguenze a fare i loro nuovi calcoli per ora gli utili sono visti in rialzo ed è questo che supporta per ora il movimento da inizio anno dei principali indici per quanto chiaramente dopati dalle magnifiche 7 vedremo un po' come proseguirà questo movimento nei prossimi giorni fate sapere cosa ne pensate anche di questi grafici del rapporto tra Russell 2000 e l'S&P 500 e qui pesato se anche a voi piace osservarlo più rispetto a quello dell'S&P 500 e anche questo movimento, questo grafico ogni tanto da analizzare da tenere sempre nel cassetto per valutare gli estremi tra paura e avidità del mercato ovvero il rapporto put-call tra put-call alla prossima